a Celentano. Per quale motivo? Per la diffamazione. Cioè? Cioè lui in una pubblica conferenza stampa ha detto che io ero un ricattatore, roba del genere. Noi come clan abbiamo pensato a piazzarlo a Sanremo e a piazzare due canzoni sue. È un peccato fare questo sotto l'etichetta del clan, ancora. Dice sarebbe bello farlo, dice mettere a una casa un'etichetta improprio, direbbe Don Bacchi, e penso io eh, e sarebbe bello mettere un'etichetta improprio ma partire naturalmente dal festival di Sanremo. Io sono leggermente arrabbiato, si vede? No. E allora, ma comunque io lo so che sono arrabbiato e allora vado io a Sanremo al posto di Don Bacchi. E canterà che cosa? E canterò la sua canzone in coppia con la Milva. Ma questo è ancora da vedersi, è ancora da vedersi perché magari non ci va lui, magari non ci vado io, magari ci andiamo tutti e due perché sarebbe un bel colpo.